Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. La garanzia più forte della Costituzione consiste peraltro nella sua applicazione, nel viverla giorno per giorno. Garantire la Costituzione significa garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una scuola. Il diritto allo studio in una scuola moderna in ambienti sicuri significa garantire il loro diritto al futuro. Significa riconoscere e rendere effettivo il diritto al lavoro. Significa promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza, anche utilizzando le nuove tecnologie e superando il divario digitale. Significa amare i nostri tesori ambientali e artistici. Significa ripudiare la guerra e promuovere la pace. Significa garantire i diritti dei malati. Significa che ciascuno concorra con lealtà alle spese della comunità nazionale. Significa... Significa...